Nell'audio originale, sparo cazzate a profusione, nelle cappellate cosmiche, una stronzata dopo l'altra. Per questo, ringrazio il doppiaggio italiano. Dietro ad ogni grande uomo c'è una grande donna, e dietro ad ogni iPad Maxi c'è un iPad Mini. Sembra lavato con Dick Sun, e invece è pensato proprio così, sapete, per gli ignomi. Le dilettive erano esattamente queste. E cioè, l'oggettale iPad Mini per gli ignomi. Convinti i ignomi, tutti altri compreranno iPadino. Donnole, trafficanti di organi, ma soprattutto facchini. Il problema leale non è l'idulle iPad Gland e iPad Mignon. Il problema sarà convincere tutti che piccolo è meglio di Glande. Hanno scorso politiche aziendali e hanno esatto opposto. Che cazzo fanno? Appellate con manona sinistra e stuzzicate con punta di indice. Gilandolo diventa più largo che lungo. Ma non sono misure che contano, anzi, più ce l'hai piccolo e più mondo ti sembra Glande. Fai fotina a piccoli Glandi. Chissà dove finirà questa fleccia Glande. Li assumendo. Se Glande è Glande, Piccolo è Piccolo. E se Piccolo diventa Glande, Glande non diventa Piccolo. Ma iPadino è Glande capolavoro Glande diventato Piccolo. E Piccolo Glande? Beh, Piccolo Glande va in bianco. Ma come iPadino? Sì, vabbè, qui ci sono un po' troppi piccoli Glandi che vanno in bianco per i miei gusti. Non era l'unica meglio gli iPad neri, duri e grossi dell'altra volta? Taci, questo è mio figlio. L'abbiamo preso per le spot, non perché l'ha comandato, ma perché per il fetto, per le spot. Quanti cazzo di elle ci hai messo? Come sei bello, sei tutto tuo padre. Grazie. Risettina spontanea. Da quest'anno noi le cose grandi così le buttiamo nel cesso, ecco. Tutto quello che ci interessa sono le cose microscopiche. All'inizio era un coso grosso così, no? Un pezzetto alla volta l'abbiamo accorciato. È il nuovo che copre il vecchio, sapete? Il risultato non è un iPad grande e rimpicciolito, ma come diceva il cinese, un iPad mini Glandi. Ancora questo grande? Hai rotto i maroli, dai. Lasciami parlare della bambina. Ma dai, che dopo ti arrestano. La bambina ride perché è dentro un iPad mini. Se era dentro un iPad Maxi non rideva più. Così, se vuoi far felice tua figlia, comprale un iPadino e non fare il braccino. Cic, swish e cac. Più sono piccoli i terminali e più risparmiamo alluminio. Abbiamo imparato dai venditori autostradali. Tra il display e la batteria, dentro non c'è niente. Però si accende lo stesso. E questa cosa davvero non l'ho mai capita. Un anno C e due no, alterniamo profili arrotondati e squadrati. Mentre il vetro sopra rimane sempre trasparente. Credo ci sia un motivo anche per questo, ma non ho il manuale sotto mano. Abbiamo anche colorato le cover, pensate un po'. E visto che sono più piccole, costeranno almeno il doppio. Ma che vi frega? L'iPad mini costa di meno di quel ferro vecchio del Maxi. Con quello che risparmiate potete comprarvi anche un gratta e vinci. Il grande cambiamento rispetto all'anno passato è che prima abitavo a Palermo. Ci ho messo un pochino per ambientarmi. La Sicilia è un paese con montagne bellissime e mare pulito. Guardare la mia terra così miniaturizzata, onestamente, mi fa un po' incazzare. Anche se ci hanno messo la calza a reti di 0,12 minchie. Ma andate a fangulo! Non c'è niente bello come la Sicilia. Quando ero piccolo, sognavo che sarei annegato in questo mare. Adesso sono costretto a guardare dentro quest'affare, fingendo interesse e curiosità. Oh ma che bello questo cipino! Sembra diverso da tutti gli altri. Sì, è certo che me l'hanno messa in quel posto. Tutte queste novità combinano un bel casino nella testa dei clienti. Prima iPhone grande e poi più sottile. Poi iPhone più lungo e iPad grande. Infine iPad piccolo e iMac sottile. Alla fine il risultato sono soldi appalate nelle casse dell'Apple. Mentre il mio stipendio resta sempre lo stesso. A volte mi chiedo, ma chi è lo scepo? Voi o io? Eeeh, Swish.